peccato però riccardo c'ha un annuncio importantissimo da fare tra mezz'ora arriviamo a dove c'è la famosa torre di pisa e poi dopo andremo a vedere anche gli altri post e mano a mano aggiorniamo il diario di bravissimo what the hell is going on down there far the time stops for no one mother nature raised a new sun we were men for the long run wait before we even begun don't forget to mention to find it too